Quindi il fatto che non si possa lavorare invece per dare delle infrastrutture ai cittadini romani per noi è un problema. E poi c'è un tema complessivo di riqualificazione di questa piazza, di riqualificazione dell'area antistante della stazione Tiburtina sulla quale c'è un progetto fermo da anni che per noi va sbloccato, vanno trovate le risorse e bisogna chiedere anche a Ferrovie dello Stato intorno a questo ABBA, la stazione Tiburtina, di prendersi tutti gli impegni che si era preso ai tempi della convenzione con il Comune di Roma. Sento che Ferrovie dello Stato parla della possibilità, del suo interesse nell'eventuale acquisizione di ATAC ma penso che prima dovrebbe terminare con gli impegni che si era preso ai tempi della costruzione della stazione Tiburtina con le convenzioni che non sono state ultimate.